Buonasera e bentornati in diretta per primo il cittadino. Diamo subito il via a questa puntata dedicata a Cartoceto e al suo sindaco Enrico Rossi. Buonasera sindaco e bentornato. Buonasera a lei e soprattutto buonasera a chi ci ascolta. Subito i numeri di telefono che potete contattare per intervenire in diretta 0721 86 14 33 oppure 338 49 68 250. Ecco in questo numero di cellulare potete inviarci messaggi anche con whatsapp e già stanno arrivando tanti messaggi sindaco. Dobbiamo trattare tantissimi argomenti questa sera, tanti progetti però visto che ci aspetta un'altra settimana in zona rossa vorrei chiederle qual è la situazione nel comune di Cartoceto. Ma la situazione del comune di Cartoceto diciamo che non è così eccessivamente preoccupante. Certo anche il nostro territorio ha risentito del trend di crescita delle ultime settimane in termini di positivi accertati oltre che di soggetti costretti ad isolamento fiduciario in casa però devo dire insomma che è una situazione abbastanza sotto controllo. Come dicevo è chiaro che anche noi abbiamo risentito di questo incremento delle ultime settimane e quindi l'invito è quello assolutamente di fare un ulteriore sforzo anche se capisco davvero ormai siamo sfiniti da un punto di vista di quella che è la tenuta sociale dopo dopo di un anno. L'invito è ancora al rispetto delle regole di quelle che sono le prescrizioni dettate dai protocolli covid dal momento che appunto sembra finalmente avere un spiraglio di luce molto positivo tutto quello che è l'iter di vaccinazione. E invece dal punto di vista economico oltre che sociale prevedete ulteriori contributi o bonus? Beh speriamo di poter replicare gran parte di quello che già abbiamo messo in campo lo scorso anno soprattutto nei confronti delle famiglie che necessariamente ne risentono di questo periodo economico molto molto difficile. Vedremo anche quello che sarà l'andamento dell'esercizio finanziario in corso. D'altronde insomma anche gli enti locali soffrono finanziariamente delle mancate entrate e quindi sulla base poi di quello che saranno l'andamento delle entrate quest'anno decideremo il da farsi. L'auspicio ma soprattutto l'impegno è anche quello sicuramente comunque di mettere in campo misure importanti a sostegno delle famiglie. Dicevamo davvero tanti lavori in corso, opere, progetti e tra poco inizieremo a leggere anche i vostri messaggi. Intanto il Comune di Cartoceto ha detto sì alla ciclovia del Metauro e quindi si va avanti. Ma d'altronde non abbiamo mai cambiato idea. È vero. Su questo io ho sempre detto assolutamente di essere favorevole. Possiamo stare qui a disquisire sull'elenco delle priorità degli investimenti del nostro territorio ma la consideriamo un'infrastruttura che sicuramente può migliorare i nostri standard di qualità di vita, può consentire alle famiglie, ai bambini in generale, ai cittadini di vivere con maggior sicurezza le pedalate soprattutto dei mesi primaverili ed estivi. Possiamo richiamare ovviamente tutto quello che è il tema sul cicloturismo e qua ci sta ovviamente il collegamento tra la costa e l'immediato entroterra e non penso soltanto al collegamento Fano-Lucrezia ma è chiaro che poi in questo senso penso anche ad un eventuale sviluppo del collegamento per il cicloturismo tra la frazione di Lucrezia e tutto quello che offre il nostro territorio collinare da Cartoceto, passando per Colli al Metauro, Mon Baroccio, penso di poter arrivare a Pesaro e magari chiudere l'anello su Fano. E che non preclude anche i sviluppi sul tratto ferroviario. L'elemento diciamo, non dico di novità, ma su cui abbiamo fatto chiarezza è anche questo, cioè cerchiamo di studiare un'ipotesi progettuale che dia la possibilità immediatamente di partire con la progettazione della cosiddetta ciclovia del Metauro, salvaguardando l'ipotesi di realizzare, così l'ho chiamato nei giorni scorsi, un vettore di trasporto. Quello che ho in testa è un mezzo di trasporto leggero, la vogliamo chiamare metropolitana leggera, metropolitana di superficie, magari elettrificata o a idrogeno o comunque a combustibile rinnovabile, che possa non necessariamente essere soltanto quel mezzo a caratterizzazione turistica di cui forse anche troppo spesso si è parlato, ma a tutti gli effetti un mezzo di trasporto che possa collegare Fano con Urbino. Tra l'altro è attuale anche la richiesta che ha fatto il sindaco di Vallefoglia di collegamento tra Urbino e la Vallata del Foglia per poi ricongiungersi a Fano. Ci sta anche tutto il tema tra l'altro del collegamento tra Fabriano, Pergola e Fermignano. Quindi diciamo che qualora mai ci fossero le possibilità economiche di realizzare quel tipo di trasporto, quindi non dedicato soltanto al turismo, oggi credo che dobbiamo adottare una soluzione progettuale per speditamente proseguire con la ciclovia salvaguardando eventualmente quella ipotesi. Ma è certo, e su questo come amministrazione ne siamo convinti, che dobbiamo fare tutto quanto è nelle nostre possibilità per procedere celermente con quest'opera infrastrutturale, soprattutto evitando di perdere i 4 milioni e mezzo di euro che ci sono a disposizione nelle casse della Regione Marche. Abbiamo subito qualcuno che vuole parlare con lei. Sentiamo chi c'è in linea. Buonasera. Sì, buonasera, mi chiamo Alessandro, chiamo da Lucrezia di Cattaceto. Prego. Sì, buonasera Sindaco. Buonasera. Le faccio questa domanda, io abito qui a Lucrezia, via Corvina, la zona verso la Campania, e visto anche il periodo, mi faccio questa domanda. Noi qui abbiamo il disagio di non avere l'acqua potabile e di non avere le condutture della fognatura, e so che lei si è interessato in questi anni, però anche l'anno scorso le fontanelle dell'acqua in piazza sono state chiuse per pericolo del contagio. Quindi sono a rinnovare una domanda, come mai ancora nel 2021 ci troviamo io e altri abitanti della zona a non avere l'acqua potabile disponibile come tanti altri, visto che comunque c'è la conduttura a circa 200-300 metri di distanza, ecco, questo le volevo chiedere. Grazie. Sindaco. Ha perfettamente ragione. Sulla mancanza, diciamo, dell'infrastruttura legata ai sottoservizi in quella zona, ha giustamente ricordato non solo che l'amministrazione si è impegnata per questo obiettivo, ma continuerà a farlo e questo significa continuare ad impegnarsi per far sì che quella rete di sottoservizi sia inserita all'interno del piano infrastrutturale dell'Ato, perché l'Ato è l'autorità di competenza, diciamo, per inserire quel tipo di investimento all'interno del piano per l'appunto di investimenti da parte di Ato. Per ciò che riguarda invece la chiusura delle casette dell'acqua, non è il Comune di Cartoceto che ha disposto la chiusura di quei distributori, ma rientrando nella fattispecie dei distributori automatici quelle casette sostanzialmente furono chiuse per decreto, perché rientravano all'interno di quei codici a teco per cui le attività erano sospese. Ma di certo, insomma, anzi, il contrario, l'amministrazione ha cercato di sollecitare quanto più possibile, non appena possibile, la riattivazione dei distributori automatici di acqua potabile. Ad ogni modo, il problema di Via Corvina ce l'abbiamo assolutamente sempre ben in testa per cercare di aspettare l'occasione propizia, insomma, per poi procedere all'inserimento di quel tipo di investimento nel piano Ato. Ci stanno chiedendo in tanti informazioni sugli sgambatoi, allora le vado a leggere due messaggi che ci sono arrivati in giornata. Riguardo al discorso sgambatoio per cani, siamo molto indietro rispetto ad alcuni comuni come Fano e Pesaro. È vero, c'è scritto un telespettatore, che ora si pensa tutti alla pandemia, ma oltre a puntare il dito su tutti i proprietari furbetti che non raccolgono i bisogni dei propri cani, si potrebbe venire incontro a tutte le persone civili che invece lo fanno, perché appunto un cane ha bisogno anche di sgambare e non solo di stare a guinzaglio. Simona, da Lucrezia invece ci ha chiesto appunto sempre informazioni sulle vostre intenzioni. Avrei già individuato anche il posto ideale dove farlo, ci ha detto, in un pezzo del piazzale vicino alla SICAP dove stazionavano le giostre e il circo. È possibile, sindaco? Allora, in quell'area no, ma semplicemente per un motivo perché forse la cittadina in questione ignora il fatto che trattasi di area privata, o meglio, tecnicamente è possibile, il Comune potrebbe acquistarlo e poi eventualmente realizzarvi lo sgambatoio, ma di certo per quel tipo insomma di opere e di realizzazioni sono preferibili dapprima l'individuazione di aree pubbliche. Ora, noi su questo tema ci stiamo ragionando da tempo. Tra l'altro diversi cittadini conoscono il mio punto di vista perché l'ho anche più volte palesato e mi riferisco all'obiettivo a cui ha sempre lavorato l'amministrazione e diciamo che anche in piena pandemia abbiamo riaperto questo tema insieme a delle associazioni e delle persone potenzialmente interessate, ovvero l'obiettivo è quello di realizzare un'area ad accesso libero e gratuito dedicata allo sgambatoio, a fianco però della quale ci sia un'area altrettanto attigua che possa essere dedicata a tutta una serie di attività, chiaro, quelle lì ovviamente a pagamento, legate all'addestramento, all'appet therapy, al mondioring, all'orienteering, insomma a tutta una serie di attività legate ai nostri amici a quattro zampe. So che questa posizione trova alcuni d'accordo, so perfettamente, ne sono consapevole, che questa mia posizione insomma trova altri invece in disaccordo perché vorrebbero un'area dedicata allo sgambamento dei cani completamente gestita dall'amministrazione comunale, però devo dire che rispetto a quelle che sono le esperienze anche di altri comuni della provincia di Pesurbino non voglio generalizzare perché sicuramente, come ricordava giustamente la cittadina, ci saranno degli esempi positivi, aggiungo io, ce ne saranno altrettanti negativi come quelle che abbiamo avuto modo di verificare direttamente con gli uffici di altri comuni che per l'appunto gestiscono degli sgambatoi completamente pubblici. Perché? Perché ovviamente ci sono sempre cittadini purtroppo ineducati che non raccogliendo gli escrementi diventa poi ovviamente cosa abbastanza antipatica dover incaricare del personale del taglio dell'erba. Tenendo tra l'altro anche in considerazione quelle che sono non solo e non tanto le risorse economiche a disposizione oggi degli enti locali, quanto le risorse umane poi che possano gestire e quindi prendersi cura di questi spazi verdi. Fortunatamente tra l'altro soprattutto nella frazione di Lucrezia abbiamo tantissimi spazi verdi di cui il nostro personale esterno deve prendersi cura, per cui è chiaro che sarebbe un ulteriore onere che caricheremmo sulle spalle del nostro personale. Ad ogni modo, dal momento che tra l'altro avremmo anche individuato un'area che forse riteniamo anche troppo poco baricentrica rispetto a quelle che potrebbero e dovrebbero essere gli utilizzi anche quotidiani perché poi so che ci sono cittadini ad esempio che dal nostro territorio partono per raggiungere gli sgambatoi del comune di Fano e quindi realizzare uno sgambatoi anche in un'area un pochino più periferica potrebbe essere comunque possibile anche nel nostro territorio. È chiaro però che il cittadino, soprattutto che magari abita in dei piccoli appartamenti, ha necessità quotidiane di far uscire il proprio cane. Da questo punto di vista stiamo anche pensando come amministrazione invece di individuare una piccola area, recintarla, gestirla totalmente a carico dell'amministrazione comunale che sia però quanto più baricentrica possibile. Quindi cercare di raggiungere entrambi gli obiettivi. Quello che ho detto all'inizio, gestito da un'associazione con tutte quelle attività di cui parlavo prima è un'altra area molto più piccola, più baricentrica che eventualmente possa invece gestire direttamente l'ente. Un altro argomento molto importante è quello che riguarda le mura perché finalmente sono stati concessi dal governo delle risorse di finanziamento importanti per la messa in sicurezza. Diciamo che questa è una bellissima notizia che possiamo dare ne abbiamo parlato tante volte in questi studi televisivi e sicuramente è un risultato che ci rende molto molto orgogliosi è frutto di anni di impegno da parte dell'amministrazione comunale prima della notizia relativa al milione e mezzo di finanziamenti che ci consentirà di scrivere la parola fine rispetto agli interventi di messa in sicurezza, restauro e consolidamento della cinta muraria era già la precedente estate arrivata un'altra notizia molto importante legata all'arrivo di 87.500 euro circa dedicati alla progettazione esecutiva e poi lo scorso 23 febbraio questa notizia davvero molto ma molto importante per il capoluogo per Cartoceto perché significa ovviamente poter poi riscrivere ricominciare a scrivere una nuova storia per il centro storico E secondo lei quali potrebbero essere i tempi? Ma i tempi sono dettati non tanto dall'amministrazione comunale quanto direttamente dal decreto del Ministero dell'Interno con cui ci sono stati riconosciuti questi contributi ovvero se non ricordo male credo che abbiamo dieci mesi di tempo per esperire la gara di appalto e quindi poi condizioni meteorologiche permettendo dover immediatamente a seguire iniziare i lavori i tre interventi forse la cosa che potrebbe rappresentare un problema a carattere temporaneo è il fatto che trattandosi di tre interventi con tre gare d'appalto necessariamente diverse perché saremo costretti a procedere così magari potrebbe venire a crearsi una situazione abbastanza caotica nel centro storico ma diciamo che accettiamo di buon grado questi piccoli disagi che potrebbero venirsi a creare per risolvere definitivamente questo problema Le chiedono quando sarà pronta la nuova struttura di vitamensa nella scuola di Cartoceto quindi apriamo anche il discorso delle scuole anche qua abbiamo tanto di cui parlare Anche qui davvero stiamo sollecitando sia i tecnici che le ditte ormai da tempo perché è un obiettivo sul quale l'amministrazione ha davvero creduto tanto e ha investito tanto perché parliamo di un investimento di circa 150 mila euro soltanto per l'ampliamento tra l'altro risorse interamente da bilancio comunale e quindi speriamo davvero di arrivare quanto prima credo nel mese di maggio al risultato tra l'altro il plesso scolastico del capoluogo di Cartoceto la scuola Ragnetti di cui stiamo parlando è stata anche di recente oggetto di realizzazione del percorso della scala antincendio questo ampliamento la caratterizzerà e sicuramente aumenterà quelle che saranno le proposte formative dedicate a quel plesso senza trascurare l'esclusività il carattere di esclusività che assegneremo al parco che sta sul retro della scuola e quindi anche lì ci sarà un intervento di riqualificazione Migliorie però anche ad altri plessi scolastici? Altri plessi hanno interessato diciamo degli interventi di miglioria hanno interessato anche la scuola secondaria di primo grado di Lucrezia la Marco Polo tra adeguamento alle prevenzioni incendi piuttosto che adeguamento covid per cui tutta una serie di interventi che comunque hanno impegnato anche lì diverse decine di migliaia di euro da bilancio senza trascurare ad esempio il fatto che oggi due aule della scuola primaria Mascarucci di Lucrezia sono ospitate all'interno temporaneamente è bene sottolineare questo carattere di temporaneità all'interno dell'officina della creatività di Lucrezia e anche lì se non avessimo proceduto preventivamente è chiaro che saremmo andati poi in difficoltà rispetto alle norme di prescrizioni covid Ecco per quest'officina ci sono delle novità che cosa è successo in quest'ultimo anno? Come stiamo vedendo insomma dalle immagini che stanno scorrendo dentro è praticamente pronta la stiamo finendo di allestire sia nell'arredamento sia nelle dotazioni tecnologiche abbiamo anche nel bilancio preventivo di quest'anno inserito delle ulteriori risorse per completarla anche all'esterno perché vorremmo fosse davvero un ambiente molto bello molto attrattivo soprattutto per i ragazzi e che quindi sentano proprio che dire speriamo quanto prima di poterla utilizzare perché questo vorrebbe anche dire che la pandemia e quindi l'emergenza sanitaria sarebbe terminata Complimenti Sindaco continui così ha fatto moltissimi lavori molti altri ne farà e poi gli chiedono anche vorrei sapere quando è possibile che i raggi delle case popolari ci vengono consegnati perché sono trascorsi quasi quattro anni possiamo dare una risposta? Non con una certezza temporale ma so che gli uffici di competenza stanno lavorando assieme ai tecnici e quindi davvero speriamo di arrivare quanto prima a questo risultato spero in brevissimo tempo perché il cittadino che segnala questa stortura ha perfettamente ragione rispetto al termine dei lavori che ormai si è concluso davvero da anni e ancora non hanno la piena fruibilità dei garage Via Pieve ancora senza gas metano e poi vorremmo sapere che appunto sono i lavori di potenziamento della linea internet nelle scuole di Lucrezia e Cartoceto visto che i collegamenti per la DAD sono un po' problematici Ci stiamo lavorando per quei collegamenti e credo che nel giro di 20 giorni riusciremo assolutamente ad arrivare al risultato almeno lo spero Caro sindaco avrei una lamentela che mi viene in mente ogni volta che cammino a piedi da Lucrezia possibile che in via San Giuseppe i due marciapiedi devono essere utilizzati come parcheggi per auto costringendo poi i pedoni a camminare nella strada forse è il caso di iniziare a prendere anche dei seri provvedimenti tipo un bellissimo senso unico così che le auto possono parcheggiare sulla strada e non sui marciapiedi se fossi costretto su una sedia a rotelle mi arrabbierei moltissimo Sottoscrivo completamente la proposta ed è uno degli obiettivi che non credo riusciremo a centrare quest'anno per indisponibilità di risorse ma sono assolutamente d'accordo su quella proposta nel lavorare in un senso unico di quella via tra l'altro anche con l'inserimento di tutta una serie di elementi che possono poi ridurre la velocità perché ovviamente nel momento in cui si renderà a senso unico quella via essendo abbastanza larga poi sono sicuro che potrebbero esserci problemi legati alla percorribilità ad alta velocità Continuano a proporre anche i dissuasori in via Sant'Anna questa è una richiesta che ci arriva spesso Adesso Simona la faccio sorridere perché durante l'ultima campagna elettorale visto il mio cognome ero diventato Enrico Dossi e non più Enrico Rossi per tutto quello che è stato l'intervento di riqualificazione che contempla anche la realizzazione di tutta una serie di rampe lungo via Circonvalazione Kennedy Ovviamente è una realizzazione sulla quale la cittadinanza si è spaccata quindi tra coloro che erano pro e coloro che erano contro adesso sto vedendo e sto raccogliendo tutta una serie di richieste lo dico con il sorriso ma ovviamente anche con la consapevolezza che queste richieste sono ben fondate rispetto a quelle che sono le problematicità registrate quotidianamente in tutta un'altra serie di tratti viari del nostro del nostro comune abbiamo ovviamente consapevolezza di quelli che sono i tratti particolarmente critici anche qui abbiamo in animo sicuramente in futuro di intervenire in alcuni tratti con le stesse realizzazioni che abbiamo già fatto ad esempio in via Circonvalazione Kennedy in altri invece per altri invece sono già stati oggetti di confronto insieme alla polizia municipale perché prossimamente diciamo che attueremo tutti dei piani di controllo di quella che è la velocità stradale a proposito arriveranno anche dei veicoli elettrici giusto? sì questa è una piacevole novità che ci consente di rinnovare in parte il parco automezzi dell'ente due saranno proprio destinati alla polizia municipale due invece al settore opere pubbliche manutenzione del territorio un bando della regione Marche al quale abbiamo partecipato 100 mila euro di contributo che ci consentirà appunto di acquistare i mezzi che vedo stanno scorrendo con le immagini altri 100 mila euro invece per risanare il palasport devo dire che l'anno 2020 e questi primi mesi del 2021 che vedono la conclusione di alcuni interventi di quel tipo sono stati sicuramente molto molto importanti per quello che è l'ambito sportivo delle infrastrutture sportive lei ricordava adesso i 100 mila euro impiegati per la riqualificazione la messa in sicurezza la manutenzione straordinaria della copertura del palasport circolani ma vorrei anche ricordare i 300 mila euro spesi nello stadio Amati con la realizzazione dei due campi in sintetico con la riqualificazione degli spogliatoi con tutta un'altra serie di lavori accessori 60 mila euro circa invece impiegati per l'adeguamento funzionale dell'impianto sportivo Sivori dove tra l'altro gioca la nostra squadra di calcio a 5 la Buldo Glucrezia che milita nel campionato di serie A2 e quindi un anno sicuramente molto molto importante per quelli che sono stati i lavori sugli impianti sportivi speriamo che valga anche per il proseguo perché questo magari cogliamo anche l'occasione insomma per informare i cittadini abbiamo partecipato al bando sport e periferie per la realizzazione di un nuovo palasport per la somma di 850 mila euro un nuovo palasport che dovrebbe sorgere nella zona polisportiva di Lucrezia dedicata ovviamente a tante attività sportive ed è una zona ad alta concentrazione diciamo di impianti perché come dicevo prima c'è già l'Omar Sivori dedicato prevalentemente al calcio 5 ma anche alla disciplina del tennis c'è il circolo tennis gli impianti dedicati al calcio quindi le società sportive saranno ben felici sede della podistica e sicuramente insomma nel momento in cui dovesse arrivare anche questa nuova e attesissima notizia di quel tipo di finanziamento poter realizzare anche un nuovo palasport sarebbe davvero molto molto importante invece lo stadio Amati lo stadio Amati dicevo prima che è stato oggetto di circa 300 mila euro di lavori tra realizzazione dei campi in sintetico che prima è tutto terminato o c'è ancora qualcosa da ultimare no dobbiamo completare dei piccoli interventi all'interno degli spogliatoi ma insomma sono rimasti davvero dei piccoli lavori residuali rispetto a quello che è stato nel giro di poco tempo assolutamente sì diciamo quelli sono completati sono esattamente questi campi che stiamo vedendo nelle foto volevo chiedere al sindaco se non pensa sia il caso di rivalutare il piccolo borgo di Cartoceto visto è considerato che ormai sta piano piano scomparendo e le famiglie tendono a spostarsi a valle per questioni di comodità approfitto per fare complimenti per l'egregio e amministrazione quando si potrà sarò ben felice di offrire una birretta al sindaco speriamo che i barri aprono intanto grazie per la birretta ma le dicevo prima quando parlavamo delle mura un intervento sicuramente molto importante per ricominciare a scrivere una storia nuova di quel borgo la stessa cosa potrei dire con l'importante intervento di riqualificazione dell'ex autorimessa di Cartoceto che diventerà la seconda officina della creatività del nostro territorio e che specificamente insisterà nel borgo storico di Cartoceto io credo che questa amministrazione ovviamente tenendo in conto in debito conto anche il precedente mandato per ciò che riguarda il capoluogo è stata molto concentrata si è molto concentrata sugli investimenti infrastrutturali questo milione e mezzo di euro dovrebbe chiudere sostanzialmente il cerchio di quelli che sono gli investimenti più importanti non dimenticandone uno ovvero il completamento la messa in sicurezza del teatro del trionfo che sicuramente faremo in questo in questo mandato questo significa poter avere a disposizione un borgo storico da poter rilanciare sulla base di tutto quello che ovviamente il nostro territorio offre in aderenza anche a protocolli di intesa che abbiamo di recente siglato assieme al Comune di Fano e assieme a tanti altri comuni sia della Vallata del Metauro che del Cesano rispondendo e ci tengo a sottolineare questo aspetto anche a quelle che sono le linee strategiche del piano triennale del turismo della Regione Marche Allora prima di andare in pubblicità vorrei chiederle perché ci stanno arrivando tanti messaggi sull'ufficio postale c'è chi ci dice che fine abbia fatto un'altra signora Angela ci scrive qual è la situazione degli orari dell'ufficio postale di Cartoceto ora solo una volta a settimana e tanti disagi soprattutto per gli anziani del centro storico Sono perfettamente d'accordo ma davvero abbiamo fatto e stiamo ancora facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità ho più volte interloquito con i vertici provinciali di poste anche con il direttore dell'area centro nord ho interessato in qualità di componente del consiglio direttivo di Anci Marche per l'appunto sia Anci regionale sia l'Anci nazionale perché non solo Cartoceto in questa situazione ma tanti altri comuni minori vivendo però contemporaneamente anche la struttura sulla base della quale alcuni comuni anche nella nostra provincia hanno già ripreso le giornate e gli orari di apertura pre-covid ci siamo fatti anche promotori come amministrazione comunale di una raccolta firme di una petizione popolare che è stata sottoscritta da oltre 400 cittadini ho ovviamente evidenziato e inviato questa raccolta firme come dicevo prima al direttore dell'area centro nord di poste tra l'altro contestualmente abbiamo proceduto anche a richiedere un postamat che sarebbe sicuramente molto molto importante per automatizzare tutta una serie di operazioni nel nostro centro storico speriamo quanto prima di avere un riscontro positivo perché è un obiettivo è un risultato al quale sicuramente attiamo davvero molto Sindaco ci dobbiamo fermare per qualche istante poi torneremo a parlare di tanti altri progetti ovviamente torneremo a leggere anche i vostri messaggi a tra poco Siamo tornati in diretta con il Sindaco di Cartoceto Enrico Rossi cominciamo subito dai messaggi i nuovi giochi che ha messo nel parco di via Giovanni Pascoli sono molto belli penso che le promesse vadano mantenute che è successo è una battuta ironica che colgo comunque favorevolmente per tra l'altro rispondere dicendo che proprio sabato pomeriggio abbiamo fatto un sopralluogo stiamo concludendo l'intervento di riqualificazione del parco pubblico di Ponte Murello con l'installazione di nuovi giochi percorsi sensoriali e alcune telecamere prossimamente quando dico prossimamente intendo nei prossimi due mesi quindi tra aprile e maggio invece sarà un oggetto di riqualificazione compresa l'installazione di nuovi giochi il parco pubblico Martri di Bologna quello spazio ad uso esclusivo della scuola di Cartoceto quel parco sul retro della scuola di Cartoceto di cui parlavamo prima e per l'appunto il parco pubblico di via Giovanni Pascoli giustamente la telespettatrice ci dice che non abbiamo dato la risposta su via Pieve quindi sono che sono senza gas metano esattamente purtroppo la stessa situazione di via Corvina di cui dicevo dicevo prima abbiamo un elenco di tutte quelle che sono ancora purtroppo le zone non servite e è chiaro che nel momento in cui ci sarà l'occasione propizia davvero cercheremo di fare tutto il possibile affinché sia inseriti questi nuovi investimenti all'interno del piano diciamo di ambito provinciale chiedono marciapiedi in via Pilone e poi quando metteremo funzionale l'area sosta camper sono due problematiche completamente diverse la prima parliamo della frazione di Lucrezia è chiaro che cercheremo sicuramente per quanto le risorse ce lo consentiranno perché è bene ricordare molto spesso ai cittadini che non è soltanto una questione anzi non è quasi mai una questione di volontà ma è sempre una questione invece riconducibile alla disponibilità economico-finanziaria da parte dell'ente però dicevo che è chiaro che cercheremo di estendere ulteriormente tra l'altro il discorso della pista ciclopedonale di cui facevamo cenno prima va esattamente in questo senso di estendere i percorsi ciclopedonali in sicurezza all'interno del nostro territorio la seconda domanda invece via Pieve per il gas metano via Pieve ho già risposto prima dicevo cercheremo insomma di inserirlo laddove possibile all'interno di questo piano di investimenti provinciali abbiamo questo piano questo elenco e ovviamente cercheremo di farlo però è bene ricordare e sottolineare che non è esclusivamente riconducibile alle volontà dell'amministrazione comunale altrimenti probabilmente ci avremmo messo mano da un pezzo si parla tanto in questi giorni anche della fusione tra Aset e Marche Multiservizi vogliamo ribadire qual è la sua posizione anche per chi ci sta guardando da altri comuni guarda sarò assolutamente molto molto netto e forse anche un po' crudo riguardo alla ipotetica fusione tra Aset S.P.A. e Marche Multiservizi io la definirei una porcata politica e dobbiamo smetterla di ostinatamente tra l'altro di volerla ogni tanto di ritirare fuori dal cassetto per perpetrarla è davvero una porcata politica e credo che i cittadini che magari talvolta non percepiscono nemmeno questo continuo battibecarsi su questa questione devono sapere che oggi per ciò che riguarda il comune di Cartoceto e specificamente per ciò che concerne il servizio di igiene ambientale noi siamo serviti da una società Aset per l'appunto a intero capitale pubblico cioè di cui i soci sono soltanto i comuni questo vuol dire che la redistribuzione degli utili va ripartita esclusivamente tra i comuni e quindi quegli utili non fanno altro che essere riversati sul territorio in termini o di maggiori servizi o di maggiori investimenti qualora dovesse essersi la fusione tra Aset e Marche Multiservizi significherebbe che circa il 50% degli utili sarebbero ovviamente ripartiti con ERA cioè andrebbero a Bologna questa è una verità che noi dobbiamo far capire ai cittadini altrimenti non comprendono tutto questo astio diciamo nel dibattito che ogni tanto diciamo ci sarebbero invece dei vantaggi giusto per cercare di io onestamente non ne vedo anzi il contrario dobbiamo smetterla di propinare al cittadino che un'eventuale fusione con razionalizzazione maggiore efficientamento gestionale e una maggiore capitalizzazione del patrimonio potrebbe portare a una riduzione dei costi in bolletta abbiamo visto qual è il trend delle tariffe di questi anni tra l'altro guardi glielo dico anche non secondo una posizione ideologica perché il comune di Cartoceto è stato nel 2016 il primo tra i comuni soci di minoranza di Aset ricordiamo che il 97% è di proprietà del comune di Fano ad avviare in consiglio comunale con la deliberazione ovviamente di competenza la fusione dell'allora tra Aset SPA e Aset Holding quindi la mia posizione non è una posizione ideologica la mia posizione è una posizione pragmatica da un dettaglio amministrativo che però cerca di fare gli interessi di cittadini famiglie ed imprese e non di era che sta a Bologna e soprattutto guardi mi faccia dire anche un'ultima cosa smettiamola di fare terrorismo psicologico nei confronti dei lavoratori di Aset dicendo che nel caso in cui non dovessimo arrivare alla fusione tra Aset e Marche Multiservizi potrebbero anche all'orizzonte stagliarsi problemi legati all'occupazione cioè sostanzialmente vuol dire che vogliamo mettere paura al personale dipendente di Aset perché potrebbe anche perdere il posto di lavoro questa cosa non è vera lo dice non solo l'ultimo piano occupazionale di Aset ma lo dice anche il trend di crescita occupazionale di quella società che è pienamente in salute anche questo non lo dico io lo dicono i dati principali indicatori macroeconomico finanziari e quindi smettiamola davvero con questa porcata politica la definisco ancora un'altra volta tale che risponde soltanto agli interessi di parte specificamente a quelli che risiedono a Bologna a chi spetta però la decisione finale giusto per capire voi avete un potere decisionale la decisione spetta per l'appunto ai sindaci e quindi le amministrazioni locali facciano la loro parte opponendosi a questa fusione vorrei chiedere la possibilità di regolare la viabilità pedonale nella via della scuola materna piccolo principe attraverso un marciapiede o almeno la segnaletica orizzontale dunque la viabilità pedonale nel quindi prima di arrivare alla scuola materna piccolo principe chiedono un marciapiede o quantomeno la segnaletica penso anche per riuscire a mettere più in sicurezza i bambini sono previste costruzioni di cappelle al cimitero di cartoceto di cappelle in questo momento no stiamo procedendo con la realizzazione di ulteriori venti loculi più che procedendo ci stiamo avviando nella fase conclusiva di realizzazione di questi nuovi venti loculi probabilmente nell'anno in corso ne realizzeremo altri 40 lì a fianco rispetto a quelli che stiamo concludendo in questo momento ma la cosa importante è che abbiamo avviato le procedure amministrative che sono imprescindibili prima del progetto tecnico che porterà nei prossimi nel prossimo futuro alla riqualificazione dei padiglioni sotterranei credo 17 e 19 comunque chi ci ascolta avrà capito sicuramente a quali padiglioni sotterranei mi sto riferendo in questo momento per gli asfalti sindaco ci dicono ad esempio che via Corvina è disastrata ma anche via Laghi verso la Valmex avete già programmato il piano per la prossima primavera? Allora via Laghi verso la Valmex non è diciamo all'interno del comune di Cartoceto ma è sotto la competenza del comune di Colli al Metauro per ciò che riguarda invece via Cerquelle è davvero in una condizione disastrata speriamo seppur devo dire quest'anno purtroppo nel bilancio di previsione non abbiamo potuto prevedere molte risorse dedicate alla manutenzione del manto stradale speriamo di poter inserire quel tratto che sarà invece questo lo voglio dire perché credo per chi ci ascolta sarà sicuramente un risultato apprezzato riadeguatamente illuminato nella tratta di congiungimento tra il quartiere Pilone quindi Via Tevere e il quartiere dei Santi lo dico perché quel tratto di via Cerquelle è davvero molto frequentata soprattutto per gli amanti delle passeggiate chiedono anche via Montepartemio esatto è un'altra delle vie inserite nell'elenco perfetto riqualificazione dei parchi pubblici in particolare Parco Conad dove i giochi sono ormai fatiscenti rotti pericolosi nessun gioco ha delle caratteristiche adatte ai disabili cosa che ormai dovrebbe essere un po' nella normalità un gioco adatte ai disabili l'abbiamo installato un po' di tempo fa soltanto presso il parco Martiri di Bologna ebbene però ricordare che il parco del quartiere Pep sicuramente non ha tantissimi giochi però dobbiamo anche dire che di recente è stato oggetto di installazione di nuovi giochi e dicevo prima la priorità in questo momento ce l'avranno gli altri quattro parchi che ho prima menzionato chiedono ancora per l'area Sostacamper l'area Sostacamper è un'altra di quegli investimenti diciamo che rientrano tra i nostri obiettivi ho di recente tra l'altro conferito con l'assessore di competenza perché prima di procedere definitivamente con l'intervento di ultimazione di quell'area Sosta di confrontarsi direttamente con quelle che sono le associazioni che rappresentano il movimento dei camperisti per capire quali eventuali a quali eventuali prerogative rispondere in termini di dotazioni anche tecnologiche per evitare di completare il manto di quell'area parcheggio camper e poi magari rimettervi mano per degli ulteriori potenziamenti fatta quella definizione sicuramente completeremo anche l'area camper allora due domande in una se pensate di incentivare le aziende del territorio per fare la raccolta differenziata e poi di fare più controlli e prendere anche un serio provvedimento dietro la copp dove viene buttato davvero ogni rifiuto e comincia a diventare anche un po' pericoloso per i bambini dicono prenderemo assolutamente provvedimenti ma probabilmente è sbagliato utilizzare il tempo al futuro perché stiamo già prendendo dei provvedimenti dalla fine del 2020 e in questi primissimi mesi del 2021 sono già state elevate circa 25 sanzioni amministrative proprio perché abbiamo dotato quell'area ogni tanto di camera mobile non è ancora sufficiente tra l'altro ho per l'appunto fatto un sopralluogo proprio nella giornata di sabato e quindi dovremo ulteriormente potenziarla quell'attività di controllo abbiamo insieme al settore polizia municipale sviluppato sviluppato un piano schedulato da qui a luglio 2021 e quindi contiamo davvero con questa attività di controllo unitamente però a quella legata alla prevenzione all'educazione all'informazione e alla sensibilizzazione di minimizzare quanto più possibile questo tipo di problema ebbene però ricordare anche nel frattempo che comunque il nostro comune continua negli anni ad attestarsi ad una percentuale di raccorta differenziata superiore al 70% altrimenti come molto spesso purtroppo accade focalizziamo soltanto le situazioni negative e non evidenziamo adeguatamente gli aspetti invece e risultati positivi ad ogni modo quella dell'isola ecologica del retro cop così come quella ad esempio di via circonvaliazione Kennedy di via largo Donizetti e ce ne sono sicuramente almeno altre 8-9 che abbiamo focalizzato saranno sicuramente oggetto di controllo e sono già state inserite in questo piano di schedulazione che abbiamo redatto da qui a luglio 2021 invece 65 mila euro dalla regione sono stati investiti per la messa in sicurezza delle fermate del bus saranno investiti proprio qualche giorno fa abbiamo approvato i primi due progetti esecutivi ne seguiranno altri due sono 65 mila euro che ci consentiranno per l'appunto di riqualificare mettere in sicurezza e al tempo stesso abbattere le barriere architettoniche che sono ad oggi presenti in quattro fermate dell'autobus lungo la via Flaminia cosa ne pensa di ridurre i limiti di velocità in via San Marco vista l'alta affluenza di camminatori? d'accordo rientriamo in quel discorso che dicevo prima via San Marco così come via San Giuseppe così come via della Libertà e potrei ovviamente dirne tante tante altre l'ultimo tratto di via Pieve insomma adesso sicuramente rischio di dimenticarmene tantissime sarà oggetto di quello studio di quella valutazione di cui dicevo prima ovvero o la realizzazione di quelle rampe che rallentano così come sta succedendo in via circondazione Kennedy la velocità oppure di presidio da parte della Polizia Municipale con ovviamente degli strumenti di rilevazione della velocità torniamo un attimo al cimitero di Cartoceto ogni volta che piove ci scrivono si allagano le cappelle e anche le grondaie perdono acqua che scorre lunghi muri che diventano verdi in più i tombini sono intoppati l'acqua non defluisce crea delle pozzanghere pericolose soprattutto per le persone anziane per ciò che riguarda le cappelle mi pare che l'ufficio se ne stia occupando ma invito chi ci ascolta magari ad evidenziare a comunicare specificamente ciascuno di quei problemi direttamente all'ufficio tecnico così che possiamo ovviamente prenderli in esame singolarmente bravo sindaco sulla fusione le grosse aziende come era sono un pachiderma lo conferma chi ci lavora quindi apprezzano il suo ragionamento insomma quello che ha detto spero che possono condividerlo tanti altri miei colleghi sindaci Ponte Murello è previsto qualcosa per ridurre la velocità? esattamente torniamo in quello che dicevamo poco fa ripeto esiste un piano di individuazione delle zone particolarmente critiche vediamo ovviamente zona per zona punto per punto quello che è possibile fare tra la realizzazione di manufatti che hanno l'obiettivo di ridurre la velocità e quello che ho appena detto cioè ovvero i presidi della polizia municipale con strumenti di rilevazione della velocità dunque volevo sapere se oltre al mura di Cartoceto e del centro di Lucrezza c'è qualcosa anche per la periferia ci sono anche tanti progetti comunque che state portando avanti è vero adesso non so specificamente a che cosa si riferisca non ce l'ha specificato non ce l'ha specificato diciamo che di progetti mi pare che ne abbiamo ne abbiamo allora vogliamo andare avanti di esempio di tanti potremmo ad esempio non so periferia se si riferisca alla zona rurale diciamo del capoluogo o si riferisce alla frazione di Lucrezia potremmo ad esempio proseguire con un altro investimento molto molto importante per cui nel 2021 affideremo la progettazione ovvero quella del nuovo centro sociale anziani esatto andiamo lì questo è sicuramente ecco stiamo vedendo le immagini nel corso dell'anno 2021 affideremo il servizio di progettazione nelle scorse settimane assieme all'assessore di competenza ci siamo confrontati con la responsabile del settore finanziario per individuare le risorse finalizzate alla copertura di questo investimento importante un investimento di circa 750 mila euro che sicuramente troverà copertura finanziaria nell'anno 2022 e quindi ripeto quest'anno contiamo di venire alla conclusione della progettazione per poi partire con l'esperimento della gara d'appalto e via alla realizzazione speriamo insomma di poterlo assolutamente concludere di inaugurare questo è l'obiettivo prima della fine del mandato abbiamo un'altra foto che abbiamo visto poco prima di andare in diretta vorrei commentarla insieme a lei Cristiana se riusciamo eccola qua anche qui un altro progetto guardi questo è sicuramente un altro progetto importante già contenuto all'interno del piano triennale delle opere pubbliche che ci tengo a definirlo non il libro dei sogni come purtroppo spesso accade nelle amministrazioni pubbliche lo dico perché abbiamo già individuato specificamente quelle che sono le risorse che necessiteranno a realizzare quel tipo di intervento e parliamo della bretella stradale di collegamento tra via della liberazione e via pilone chi vive soprattutto quella parte di territorio conosce quelli che sono i problemi legati alla congestione del traffico soprattutto nelle parti centrali della giornata in modo particolare legato al traffico di mezzi pesanti che debbono raggiungere ma non solo che debbono raggiungere le zone artigianali diciamo circostanti e questo sarà sicuramente credo un risultato molto molto apprezzato dalla cittadinanza e che anche per questo tanto per dare tempi certi sia di progettazione che di realizzazione nell'anno 2021 avvieremo le attività di progettazione e poi nel 2022 finanzieremo quell'opera visto che ha parlato di Aset a Lucrezio occorre che la macchina spazzolatrice pulisca anche i parcheggi pubblici perché non reggono più le scuse delle auto parcheggiate un altro messaggio ancora per lei quando avete intenzione di pulire il corso del fosso di Ponte Murello è di competenza del comune? è di competenza del comune assieme al consorso di bonifica ma devo dire che il fosso Riosecco soprattutto nel tratto di Ponte Murello è stato oggetto di recente quando dico di recente non intendo ovviamente qualche mese fa ma non ricordo male forse un paio di anni fa di un intervento davvero molto importante dal quartiere fiume quindi diciamo dal fiume Metauro salendo per il tratto di Riosecco che soprattutto insiste su Ponte Murello ma non solo in generale su tutto il tratto urbano e devo dire che ad eccezione di anestetismi che obiettivamente oggi come dire rendono un po' negativa la vista sul tratto urbano del Riosecco ma non ci sono problemi di sicurezza su quel tratto e quando parlo di sicurezza mi riferisco ovviamente alla sicurezza idrogeologica ci sono dei bei progetti anche per la biblioteca che potrebbe diventare ad alta tecnologia che diventa ad alta tecnologia userei il presente perché stiamo per l'appunto proprio in questo momento facendo i lavori ci riferiamo alla biblioteca a Fraciscatto di Cartoceto una biblioteca ad alto contenuto tecnologico dove sarà possibile avviare tutta una serie di videoconferenze con strumentazione diciamo con una dotazione tecnologica che consentirà di collegarsi in modalità wireless e quindi arrivando lì con un semplice laptop notebook piuttosto che tablet della situazione tra l'altro con webcam orientabili microfoni diciamo di ambiente e quindi devo dire insomma sicuramente un'aula dedicata alle videoconferenze che potranno utilizzare soprattutto i ragazzi universitari e quindi ci tenevamo a caratterizzare particolarmente da un punto di vista tecnologico quella biblioteca che insistendo sul capoluogo magari sarebbe stata scarsamente raggiunta dai ragazzi della frazione di Lucrezia e invece così contiamo anche di muovere quel fenomeno da valle diciamo verso il capoluogo la prossima invece sarà la biblioteca quindi ne avremo funzionanti due dell'officina della creatività di Lucrezia che come abbiamo visto dalle immagini stiamo allestendo Sindaco siamo quasi in chiusura quindi due domande al volo la segnaletica dei parcheggi in piazza Martini è inesistente quindi quando c'è scuola è una giungla piazza Martini di Bologna credo sì non l'ha scritto non l'ha specificato ma sarà sicuramente quella ha ragione e poi qualche settimana fa lei si è recato nella città di Fano per firmare un protocollo dedicato alla promozione del turismo ma anche alle eccellenze no gastronomiche ricordo l'avamo intervistata e ci crede in questo progetto quindi forse nessuna parola al vento ma progetti concreti spero proprio di no vedo insomma un buon impegno una buona energia da parte di tutti i comuni che hanno aderito a questo a questo protocollo avevamo l'avevo detto quella mattina durante l'intervento provato a raccordare da un punto di vista del piano turistico strategico negli anni scorsi i comuni che si estendono lungo la vallata del Metauro lungo la vallata del Cesano purtroppo non c'eravamo riusciti questa volta speriamo davvero sia la volta la volta buona con la creazione di un DMS a cui tutti i comuni stanno lavorando di una destinazione turistica che come dicevo prima però abbia diciamo l'onere di rispondere a due prerogative la prima è quella di non frammentare i sistemi turistici nella nostra provincia e quindi raccordare tutte quelle che sono le anime anche associative della nostra provincia affinché tutto risieda all'interno di quel contenitore e la seconda prerogativa è la netta aderenza lo avevo già detto prima alle linee strategiche del piano turistico della regione Marche perché soltanto così riusciremo credo ad intercettare delle sfide importanti e soprattutto ad affrontare delle sfide importanti a un punto di vista turistico del futuro e intanto speriamo che Cardoceto possa riospitare il prima possibile gli eventi assolutamente sì ma non credo non soltanto Cardoceto ma in generale insomma tutto il nostro paese quando dico paese intendo tutto il nostro paese italiano Sindaco grazie veramente per essere stato nostro ospite grazie a voi per l'ospitalità grazie anche a chi sta dietro le quinte quindi il regista Riccardo Sora e Cristiana Guerra grazie ancora speriamo di poterla ospitare nei prossimi mesi e buona serata a tutti voi arrivederci grazie a tutti